Allora, Leo? Abbiamo tolto un'anigua. Siamo nel bel mezzo della selva amazzonica, sotto il massiccio del salisarignama in Venezuela. Avevamo a disposizione la cicungunya, il dengue, la malaria, la zicca, insomma e tante altre cose. Adesso ci sono altre due da togliere. Mannaggia. Ci siamo impestati malamente di questo piccolo parassita che è una pulce, che entra sotto pelle, cresce, deposita le uova. Schifosissimo. Tutte a me, non c'è niente da fare. È l'anigua, conosciuta anche come tunga penetrans. Non è una pratica sessuale. Le ulteriori due. Si, si. Si vede come si muove. Un buchino, un buchino. Guarda come esce. Possiamo fare che se lo mettiamo su YouTube avrai come minimo un milione di visualizzazioni per questo. Tunga penetrans. Si è rotta. Aia, questa fa male. Disgraziate. Tutte le uova dentro. Questa fa male. Dio, questa fa male. Tutte le uova dentro. vedete se c'è ancora qualcosa. Do santo schifo. Bella, grossa anche quella eh. Si vede. Come la fai? Alla uscita intera è meglio. Per il ripreso o per me? Vado? Un momento delicato. Uno dei due morirà. dai. Eccola qui. Hai visto? Questa è uscita tutta. Per intero. Ma adesso gli diamo fuoco. Ma va. E la vuoi incendiare. Così. Scoppiata. Scoppiata. E saltate ai nari. Se qualcosa deve succedere, succede a me. State tranquilli, portatemi in spedizione, così i guai li passo io. Sì, ridi, ridi, stiracchiati. Il nostro capo spedizione, Francesco, uno dei malcapitate di questa storia. C'è da togliere una nigua maldita. Sterilizziamo. Ma siamo sicuri di questi strumenti? Beh, a occhio sono pulito. Più puliti del dottor. Vabbè, andiamo, operiamo. Ho bisogno dei guanti per evitare che il mio batterio vada a contaminare il povero chiede, Francesco. E il whisky? Stai disinfettando il dolore? Ah, bene. All'antica. Operiamo all'antica. Dottor anestesialogo. Ah, è vero. Beh, tu sei fortunato perché c'è uno che fa anestesia. E' bene questo, per anestesia. E' bonito. E' il migliore. Tutta la botella. Tutta. In piedi, anche. Lo l'ho fatto nel piedi? La nigua di mierda che va contaminato nel piedi del Cesco, il capo di spedizione. Nigua, vuoi un po'? Tre camere, macchine fotografiche? Qualcun altro? Guarda una famiglia di nigua. Marga, è gigante. Sono gli infermieri. L'abello. Eh, che che manca qua, eh? Che schifo. Eh, perché voi ce ne avrete pulitissimi, eh? Tiene su famiglia dentro. Siamo... Siamo... La, 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 quello che cade. Francesco Sauro. Oh, qua c'è un caso di... Palle, lo mettete dalla... Palle, basta! Ai, ai, ai. Hai sentito che san fa? Uff! Papà! La nigua! Ascolta, va bene la nigua la togli, ma... L'odore dei piedi, come si... Ah! Tiene le ueva! Ah! Por de me! Por de me! Visto? Bevi, 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 bevi. Certo, ce l'ha da... Mille giorni. Vai, prendi, prendi altro uovo. Tu non sei il dottor commercialista? O dottor... Il dottor è un commercialista, sì. Aaaaaaahhhhhhhhh! Sì, sì. Aaaaaahhh! Aaaaahhh! Ai, ai... O non ti dicesse! Alcolezza con... Bija, covanculo! Que... Si accabò l'operazione? No, no. No, 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 no. Ne ha da... Ahhhh! Ci sono altre due da togliere Mannaggia Tutte a me, non c'è niente da fare